ci siamo la clio di artemisia gentileschi e il ritratto della stessa pittrice fatto da simon vuè due dei nostri capolavori stanno partendo oggi per londra da ottobre 2020 a gennaio 2021 verranno esposti nella prima grande mostra inglese alla national gallery di londra dedicata ad artemisia gentileschi la curatrice della mostra letizia treves ha fortemente voluto le due opere per la loro importanza nel rappresentare l'immagine dell'artista e la sua maniera matura le opere torneranno a palazzo blu nel 2021 nel frattempo avremo molte altre opere e novità da farvi scoprire grazie a tutti